Ritardi nei pagamenti ed il mancato assorbimento di altri lavoratori rimasti fuori dall'organigramma dell'azienda Tecra che la gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono i due elementi che hanno portato una settantina di lavoratori ad incrociare le braccia. Sitin questa mattina dinanzi alla sede aziendale sulla statale per Catania. Siamo arretrati con il mese di marzo, venendo a conoscenza che il Comune ha pagato già la fattura di marzo. E dunque adesso tocca alla ditta pagarvi? Sì, certo. Questa è una mancanza della ditta perché non abbiamo avuto ancora il pagamento. Ma per quello motivo non vi paga? Questo non lo sappiamo. Non abbiamo avuto nessuna notizia in merito a questa situazione. Loro dicono per i debiti fuori bilancio che noi non c'entriamo niente completamente con i debiti fuori bilancio. Noi siamo per i lavori ordinari e non quelli straordinari. Il servizio di raccolta dei rifiuti, nonostante tutto, la scorsa notte è stato garantito. L'abbiamo garantito infatti a Insapenna, il rappresentante sindacale, che ha garantito, è andato nella Tegra, per i servizi, quelli di emergenza, e ci hanno detto che è tutto a posto. Non c'erano bisogno di no. Siamo qua, no? Loro stanno coprendo i servizi, facendo intervenire persone fuori dal cantiere di Gela. Quindi sono venute persone di quello che abbiamo visto, persone che sono al di fuori proprio totalmente dalla ditta. Non si può andare avanti così. Deve avere due mensilità, quindi è durato andare avanti. Ma voi avete avuto la possibilità di parlare con i responsabili della Tegra, con il gruppo palestrieri? Eh sì, e ci dicono sempre, quando ci danno i soldi di comune ci puoi pagare. Ci sono arrivate altre persone di fuori, quindi stanno facendo il servizio che dobbiamo fare noi. Cioè dalla sede ci siete o non ci siete? La stessa cosa. Quindi vengono sempre loro. Intanto Ignazio Giudice della Cigella insiste nel denunciare che alcune vigente si possono evitare. Sarebbe sufficiente che ognuno facesse con solerzia ciò che è giusto fare, evitando di colpire l'anello debole privo di responsabilità, e cioè i lavoratori. I lavoratori iscritti alla Cigella stanno garantendo il servizio nella convinzione che i problemi si possono risolvere attraverso una adeguata interlocuzione tra amministrazione comunale, società che esegue lo servizio e sindacato dei lavoratori. Il sindacato non ha competenza nel discutere i debiti fuori bilancio, è competenza del Consiglio Comunale, e solo loro, i consiglieri, in autonomia, possono e devono decidere se approvarli o meno. La Cigella da oggi ha inviato una formale di fida legale alla Tecra ed ha informato la Prevettura della situazione che si vive a Gela, chiesta l'istituzione di un osservatore permanente in grado di vigilare sui diritti dei lavoratori per tutti gli appalti erogati dal Comune di Gela.